Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Vorrei incominciare a parlarvi e a proporvi questo argomento che secondo me bisognerebbe incominciare a fare in maniera, non dico ricorrente, però siamo giù di lì. Perché è una domanda molto importante e ne vade del futuro del Cagliari, perché proprio di futuro stiamo parlando e bisogna vagliare qualsivoglia ipotesi. Perché al momento attuale i verdetti non sono ancora sanciti, tutto è ancora in gioco e bisogna incominciare a farsi un'idea e a pensare a come programmare le prossime annate e le prossime stagioni e in particolar modo la prossima di stagione. Andiamo con l'ordine. Se magari sei evito di morire, potrebbe essere cosa d'aiuto. Allora, come avrete intuito sia dalla copertina che dal video, oggi affronteremo il capitolo allenatore. Perché secondo me bisognerà fare delle valutazioni importanti e vi dirò secondo me qual è la mia sensazione su quello che accadrà nel caso di altre cose. E quello che spero che accadrà in ambe due i casi, quindi ovviamente sia di salvezza che di retrocessione. E vi dirò anche quella che secondo me è quello che accadrà, quindi una prediction di quella che potrebbe essere la realtà in tutti e due i casi. Allora, andiamo con ordine. Cosa accadrà secondo me, cioè cosa spero che accada in caso di salvezza? Io voglio veramente un bene dell'anima a Mr. Ragnari. Comincio con mettere le mani avanti. È una persona che stimo da morire in primis per la sua carriera, che parla da sola. In secondo perché lo ritengo un grande uomo, un grandissimo uomo, uomo d'altri tempi, specialmente. E non mi sembra una di quelle persone che dice le cose così per dirle. Se una parola esce dalla bocca di Ragnari, tendenzialmente sono abbastanza sicuro che quella parola è uscita perché o lui la pensa o lui la crede. Non esistono altre ipotesi. Però c'è un enorme contro a Ragnari ed è la stagione stessa. È stata una stagione che per il momento comunque, volente o nolente, non ha, secondo me, rispecchiato appieno quello che ci aspettavamo. Ovviamente non è che ci aspettavamo di salvarci già la ventinovesima giornata, ci mancherebbe. Non ci aspettavamo di camminare tranquillamente verso la salvezza in questo campionato, ma le cose erano ben diverse che ci immaginavamo. Comunque ci aspettavamo una squadra molto più presente durante l'arco del campionato, una squadra che non proprio rendesse di più, ma che ci rendesse più fieri di questa squadra. Quindi che vederla in campo era un piacere, che lottava costantemente. E questa cosa per grandi tratti di questa stagione non c'è stata. Ed è una cosa che io rimprovero tanto al mister, e io sono sicuro che lui ha rimproverato i ragazzi, ne sono più che certo. Però è una cosa che in questo tempo il mister non ha saputo dare. Io vedo specialmente sotto i miei video, non so magari se anche sotto i commenti del Cagliari, sui vari social e quant'altro, quanto viene criticato il mister. Ma sotto i miei video c'è sempre uno in particolare che non riesce a sopportare i ragneri. Io ribadisco sempre questo ennesimo concetto e non mi stuferò mai di ripeterlo. Per come la vedo io, è impossibile non dire che i ragneri abbia delle colpe, ok? Ma andiamo a vedere anche gli anni passati e vediamo quali sono gli errori recidivi durante l'arco di questi anni. Perché ci sono molti errori recidivi che vengono fatti già da anni prima di ragneri, molti anni prima. E se vengono fatti da prima che ragneri c'era, da quando magari la maggior parte dei giocatori che ci sono adesso non c'erano, la dirigenza era diversa, la dirigenza tranne una figura ovviamente, tutto era diverso, tutte le persone erano diverse, ma gli errori erano gli stessi, non può essere colpa di ragneri, non può. Perché se con Maran i gambi vengono sempre fatti prima, se con Rastelli venivano fatti, cioè prima, venivano fatti troppo tardi, se con Rastelli idem, se con Maran idem, se con Di Francesco idem, se con Liberani idem, se con Mazzarri idem, se con Semplici idem, e oddio, se era frizzato, non so se si è frizzato pure il video, vabbè. Se con tutti questi giocatori, questi allenatori, giocatori diversi e tutto quanto, riscontiamo sempre delle problematiche uguali, significa che questo problema non è dipendente da chi siede in panchina. Ed è un concetto che io voglio che venga messo in testa a quanta più gente possibile. E comunque, la mia speranza, cioè la mia speranza, quello che vorrei, nonostante io voglia un bene dell'anima a Ragneri, è che l'avventura finisca qui. L'avventura finisca qui per il semplice fatto che, per alcuni tratti della stagione, comunque, nonostante so, per certo, che non tutti i problemi siano derivati da lui, alcuni li ho mal digeriti, devo essere sincero. E visto che io voglio un bene dell'anima a Ragneri, e per quanto si voglia parlare comunque il ricordo in molti, purtroppo, si è rovinato, vorrei che finisse qui. Finita questa stagione, si cambiasse aria, ecco, e si puntasse verso altri nomi. Mi dispiace, non lo so. Niente, oggi tutto sta succedendo, tutto sta succedendo. Ecco, imposta volume a due. Tutto, tutto. Questa è poesia, poesia. Ma la rimango nel video, perché è il bello di la diretta. Questa è una città che capiranno in pochi. O forse no. Comunque, dicevo, io spero che questo rapporto vada ad interrompersi, perché, a prescindere che sia nel caso di salvezza o che sia nel caso di retrocessione, per quanto una delle cose di cui ha più bisogno il Cagliari sia la stabilità, mi sento che ormai non è una cosa che il mister ti può dare. E quindi punterei su altri lidi, altri nomi. Non saprei dirvene uno in particolare. Non c'è un nome che più di altri mi stuzzica di più. O al momento non me ne vengono in mente. Però non continuerei con Ranieri. Mi piacerebbe un allenatore alla Juric, per farvi capire più o meno il tipo di persona che vorrei. però cozza anche molto con quello che è poi Giolini e la sua presidenza. Quindi non saprei. Però la mia idea è quella di non continuare con il mister. E questo vale sia per un'eventuale salvezza, cosa che speriamo arrivi, e sia per un'eventuale retrocessione. A prescindere. Penso sia il caso di cambiare. Di cambiare aria. Forse un nome... Sono tentato di farlo. È un nome che prenderei magari più per... Per blasone in realtà del nome, che per l'allenatore in sé per sé, che è un novizio. Si è da poco cimentato in... In questo ruolo, ma che... Diciamo... Il suo incampo l'ha fatto vedere. Ai suoi tempi. E... In serie B. Non mi sembra stia facendo poi così male. Forse alcuni di voi l'avranno capito. Io punterei... Su un Sesc Fabricas. Magari più che altro se... Se retrocediamo. In serie A punterei su nomi che la categoria la conoscono. Se dovessimo retrocedere, non confermerai Ranieri e andrai a prendere Sesc Fabricas. Subito. Mentre... Cosa mi aspetto che accada? Io mi aspetto che accada il completo opposto. Sono convinto, fermamente convinto, che Ranieri continuerà ad allenare in Cagliari anche l'anno prossimo. A prescindere dalla categoria. Forse se si retrocede in serie B ci sono più speranze di non vederlo sulla panchina. Secondo me. Poi è chiaro che da qui in poi se ne parlerà potrebbero cambiare tantissime cose. Tantissime. Però andando a sensazioni, specialmente quelle che ho sul momento, mi viene da dire che secondo me il prossimo anno Ranieri sarà a prescindere l'allenatore del Cagliari. Questo potrebbe cambiare dalle volontà di Ranieri stesso. Per come la vedo io. Perché dubito fortemente che Giolini andrà a licenziare Ranieri. Se Ranieri smetterà di allenare il Cagliari è perché lo avrà deciso lui per come la vedo io. Perché comunque è un uomo di 70 anni. è giusto che comunque dopo una vita di lavoro voglia riposarsi. Quindi penso che se arriverà a questa decisione sarà solo e soltanto idea del mister. Non non penso sarà Giolini a deciderlo. E se mi devo immaginare un futuro in cui Ranieri decide di andare via non mi riesco a immaginare un nome che possa arrivare. Però sono abbastanza convinto del fatto che sarà un nome similaziendalista. Un nome che plagherà un po' gli animi. Un nome che servirà ai detrattori di Ranieri per i primi tempi in cui la squadra farà bene a dire che è meglio questo e Ranieri non capiva niente. Mi immagino un nome così. Il primo nome mi è venuto in mente è un Sottil per dirvi. Uno che comunque la Serie A l'ha fatta la conosce sa più o meno di cosa si parli magari un Pippo Inzaghi che so che comunque dovrebbe essere in buoni rapporti con Giulini. Mi aspetto un nome di questo tipo non un nome altisonante ma un nome che mantenga la quiete. Io personalmente l'unica cosa che cerco nel Cagliari del futuro è la stabilità e la progettualità. sulla progettualità ormai penso di rinunciarci perché non esiste un progetto non è mai esistito e non so meno se esisterà però bisogna comunque fare un upgrade sportivo per questa squadra perché non si può sempre lottare per cercare di rimanere in Serie A. Bisogna anche a piccoli passi l'Atalanta non ha fatto tutto subito però cerchiamo di costruire un qualcosa. quindi mi aspetto un nome che possa rispecchiare queste caratteristiche. Vi avrei detto anche per esempio magari un Palladino però Palladino sta facendo molto bene a Monza e per quanto a livello di piazza in generale secondo me Cagliari batte Monza 10 a 0 il Monza a livello di risultati sportivi sta ricevendo veramente tanti elogi e dubito che Palladino possa andare a fare un cambio così così importante o magari perché no sognando mi piacerebbe anche magari un Sarri che era destinato a venire a Cagliari poi non se ne fece più nulla e però anche lì lo vedo abbastanza male con Giulini Sarri cioè non mi sembrano due figure che possano collaborare a pieno però magari chi lo sa tanto staremo a vedere per il momento ovviamente si naviga a vista detto questo il video finisce qui fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate cosa accadrà secondo voi se rimarrà Ranieri se non rimarrà Ranieri chi ci potrebbe essere l'anno prossimo in caso di serie A o di serie B fatemelo sapere qua sotto e noi ci becchiamo in un prossimo video bella